Dal capo di Stato Maggiore della Gimitia, generale Colasso D'Arziano, dal consigliere del Capo dello Stato per gli affari militari, generale di squadra aerea Roberto Corsini, giunto all'altezza della tribuna presidenziale, il Capo dello Stato, dei generati non militari, dalla formazione di corazzieri a cavallo e scolta la giunta. Il Regimento Quarziere custode, secondo la tradizione militare nazionale, del patrimonio di valore e dell'età delle guardie del corpo e delle parti migliorari dell'alba dei camminieri al servizio del Capo dello Stato. Il Regimento Quarziere custode, guardia, scolta l'onore e protezione diretta e immediata del Presidente della Revoluzione, della sua famiglia e delle autorità ospiti all'interno del palazzo dei primiari, nonché gli altri servizi militari, secondo le disposizioni di favore e di quello del proprio regolamento di servizio.